Abbracciato dalle verdi montagne, accarezzato dalle fresche e rintempranti brezze serali e coccolato dai raggi di sole, l'hotel Natisone potrebbe suscitare nel visitatore e nello spettatore una sorta di invidia. Le valli del Natisone accolgono l'ospite come si conviene ad un amico. Calore ed immediatezza, storia e natura, sport e relax ne sono i fulcri principali. L'hotel Natisone è il luogo ideale ed adatto per qualsiasi esigenza, ha la capacità a dir poco unica di coniugare differenti tipi di vacanza e soggiorno nello stesso territorio. Dotato di ogni comfort, l'albergo offre la possibilità di tenersi in forma grazie alla palestra fitness ed una piscina immersa nel verde in cui immersi in essa si può govere di una vista delle montagne circostanti a dir poco unica. L'hotel offre agli ospiti anche una serie di servizi accessori quali una sala conferenze da 100 persone, sale per convivi ed angoli più riservati.